Faccio giusto un po' di annunci per quanto riguarda le dirette. Allora, le stream continueranno fino, spero, alla fine di maggio, salvo imprevisti dovrebbero continuare per tutto maggio. Ora non mi ricordo esattamente che giorno è, tipo l'ultimo di maggio. È un martedì, quindi forse fino al 27, se sembravo fino al 31, non lo so. Madonna, hai paura. E quindi niente, continuiamo a stare in età parabol fino a quella data. Se lo finiamo, bella, non penso. Se non lo finiamo, lo continueremo quando avremo tempo, perché poi devo... Sono in periodo di esami totale e quindi non... Ma perché non compare il chatbox? Ah, perché è qua dietro. Sono in periodo di esami totale, quindi non riesco. La seconda cosa che vi volevo proporre, poi forse farò un estratto di questa live, di questo pezzettino come clip, e lo metterò sul canale, non lo so, è... Io devo lavorare a un progetto per un esame. Infatti stavo cercando di far partire questa roba qua, ma ovviamente ho deciso di non farlo. E stavo pensando che la sera, se ho voglia, potrei mettermi a fare delle coding stream. Cioè mi metto a fare questo progetto, ben detto, al computer, chiaramente, ma streammo tutto quello che faccio. Questo servirebbe più a me che a voi, perché non è una live in cui parlo, penso non ci sarebbe nemmeno la webcam, giusto la chat a schermo, e con un po' di musica lo fai in sottofondo, il microfono comunque attivo, così mi sentite che ranto contro il codice che non funziona, o comunque ragiono sulla struttura del codice e cose del genere. E le farei praticamente tutti i giorni in cui non c'è Stanley Parable, quindi tutti i giorni, tranne il martedì e il venerdì, salvo eccezioni. Mattaggio al cazzo, però tutti i resti vanno a passare. E niente, però appunto sarebbero live in cui semplicemente io programmo a diritto, infatti mi servono a me perché almeno mi sento osservato, e così non mi posso distrarre fondamentalmente. E quindi basta, se volete venire, venite, giusto per avere un po' di compagnia con musica lo fai la mia voce. Ogni tanto magari leggerò la chat sicuramente, ma non ci sarà la webcam. E niente, principalmente sarò concentrato sul codice. Però penso di farle, non darò preavviso su quando le farò. La sera, da un certo momento in poi, che possono essere le 8 e mezza, le 9, le 9 e mezza, le 10, le 10 e mezza, non lo so, fino a che non smetto, andrei avanti a diritto a programmare. Quindi niente, questo, sapevatelo. Però appunto la riduzione, l'interazione in quel caso sarebbe al minimo. Cioè sono proprio live extra che servono a me per dire, ok, se anche c'è una sola persona che mi osserva, c'è un solo spettatore, almeno so che non posso fare stronzate, non mi posso distrarre, perché non mi devo distrarre veramente, c'è da consegna per un mese. E quindi niente, almeno sto tranquillo.